Temptation Island, Selvaggia Roma single, è già finita con Luca Selvaggia Roma è già single, la convivenza era stata una scelta affrettata. Solo pochi giorni fa Selvaggia Roma aveva confermato di essere tornata insieme all'ex fidanzato Luca. Da settimane non si faceva che parlare della loro presunta storia d'amore, i sospetti li aveva lanciati proprio Francesco Chioffalo. L'ex protagonista di Temptation Island dopo aver confermato la notizia aveva fatto sapere che Chioffalo era al corrente di tutto, lei stessa glielo aveva detto un mese fa. A quanto pare, però, Selvaggia è tornata di nuovo single. A farlo sapere è stato Luca tramite un messaggio postato su social. Stando alle parole del ragazzo è stato proprio lui a mettere fine alla loro relazione, dal momento che certi limiti erano stati superati. Selvaggia ha comunicato a Luca con un messaggio che la convivenza era stata una scelta affrettata. Ha poi aggiunto che lei non aveva intenzioni di lasciarlo, ma non voleva più convivere per evitare scontri continui. . Luca ha lasciato Selvaggia dopo il suo messaggio. Luca non ha preso affatto bene la decisione di Selvaggia Roma. A parer suo è normale essere ogni tanto in disaccordo quando si vive insieme, però se lei preferisce avere i suoi spazi forse ha solo voglia di stare da sola. . Proprio per questo il ragazzo ha deciso di troncare la loro relazione, augurandole di aver preso la scelta migliore per se stessa. .